Gucci Cosmos è una mostra che racconta la lunga storia di Gucci. Sono 102 anni. La mostra è un complesso organismo espositivo che S. Devlin ha costruito pensando a dei meccanismi del tempo, ma anche a delle aree tematiche rispetto alla storia Gucci. La cosa più interessante è stata riuscire a fare in modo che la scelta degli oggetti, abiti, accessori, efemera, dessero un'immagine completa di quell'argomento. Bellissima. No, guarda! Grazie.